oh finalmente sono arrivata dov'è la mia amica? oh qui finalmente l'ho comprato ho il mio bellissimo vestito lo adoro domani lo metto e vado a fare un giro qualcuno ha suonato nella mia porta vado a vedere non vedo l'ora di vedere chi è apro apro ma dov'è? sta arrivando o no? sta arrivando, sta arrivando ciao ti apro vieni prego, passa andiamo, andiamo oh sì ciao mi sono stancata un po', ci sediamo oh eccoci, ci mettiamo qui allora, io mi siedo qui oh anch'io come ti avevo già detto al telefono ho comprato una nuova cucina davvero? ho visto che la tua non c'è più ma questa è una cucina speciale è tutta rosa e già con attrezzi apposta ma davvero? già con attrezzi apposta wow sì sì e non mi è costata tanta era super divertente l'ho vista in tv allora non vedo l'ora che arriva ma come hai fatto a prenotare di portartela a casa? facilissimo basta che fai una chiamata e entro un giorno sei a casa con la cucina nuova davvero? allora se mi piacerà ne prendo una anch'io vedo da qui il tuo nuovo bellissimo vestito sì sì ah, chi è? aprite aprite ho portato la cucina vado ad aprire è arrivata la cucina selva ti apro? prego, entri oh sì, arrivo cucina ragazzi ecco la cucina divertitevi nuova cucina modello super extra bellissima facile da montare e anche da smontare divertitevi grazie non vedevo l'ora ero così così convinta che è piccolissima ma sembra una cucina bellissima e gigante ragazzi devo portarne altre dieci vado buon divertimento allora iniziamo a mettere la cucina? sì non vedo l'ora dai andiamo eccola wow allora la prima parte la metto qua in mezzo al tappeto i paletti per tenere sul tavolo ok oh ecco le paletti per nostra cucina le abbiamo già messi abbiamo messo anche il tavolo questo tavolo è meraviglioso per fare picnic hai ragione è bellissimo mi piacciono soprattutto i cucchiai bianchi oh sì sì cosa è rimasto là da vedere in quella cucina? iiii vuoi sapere ancora c'è un sacco di roba vado a prendere altro ooooh oh ma quanto è bella questa cucina mi sa che me ne prendo una anch'io sì questa cucina è meravigliosa vero? sì è veramente molto molto bella è bellissima come il tuo vestito è vero sì vado a provare il mio vestito sì è bellissimo è bellissimo è bellissimo è bellissimo sì 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 vado a provarlo oh sì vado nella misura ti faccio vedere mi sono cambiata guarda wow è meraviglioso come brilla no anch'io voglio provare anch'io mi piace tanto ah ma guarda non mi dispiace puoi provarlo se vuoi vieni oh sì allora non vedo l'ora arrivo sì arrivo fammi vedere da vicino è davvero bello andiamo che lo proviamo oh mi sta piccolo no mi sta che non ci non ci entro oh no oh no non mi sta sono ingrassata oh ma stai tranquilla è il vestito che è un po' piccolino dai vieni che beviamo il cappuccio va bene andiamo se il cappuccio è già pronto buonissimo questo cappuccio mi ha calmato domani mi compro un vestito così ma più grande stra buono stra buono oh se ti compri il vestito uguale al mio allora sembreremo due gemelle sì 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 Grazie a tutti.